Buona giornata! Oggi Yoko Ono ci insegna una pratica importantissima per la propria felicità e per fare la differenza nel mondo e nella propria vita. Sì, proprio nella propria vita. Sorridi allo specchio, fallo ogni mattina. Sì, sorridi allo specchio, fallo ogni mattina. E inizierai a vedere una grande differenza nella tua vita. Yoko Ono. Sì, sorridi allo specchio. Tutte le mattine, oltre che sciacquettarti la faccia, sorridi allo specchio. Sorridi, sorridi allo specchio. Io sono proprio un fan del ridere senza motivo, ridere sempre, perché la risata in genera in noi dei cambiamenti potenti. E semplicemente, se uno persegue la risata per molto tempo, per esempio, quello che fa è che rende il nostro sangue più sano, rende la nostra respirazione più forte, ci energizza, ci dà forza, ci dà potenza, ci rende più sani e felici. Quindi, sorridi allo specchio. Fallo tutte le mattine. Poi, se vuoi, puoi fare anche un po' di pratica di yoga della risata. Per ora sul canale c'è solo una pratica base, fatta qualche anno fa, ma poi seguiranno anche altre. Quindi, sorridi allo specchio. Fallo ogni mattina. E inizierai a vedere una differenza immensa. Quindi, oggi, sorridi di più. Anche ai tuoi colleghi, anche a chi ti vuole male, sorridi dicendo, ti non sai cosa ti perdi. Daniele Paci, per felicità e pace. Om Shanti, Shanti, Shanti. Buona giornata. Ciao.